Hola Lucia Dores e inventatori di Blasoni e Vanvera, ben ritrovati dal vostro Silver che sta cercando di ricordarsi cosa cacchio deve fare di preciso e fra questo video che state vedendo e il precedente è passato solo il tempo della cena non è vero, ho anche fatto le valigie perché come sapete domani si parte e si ritorna dopo Ferragosto non importa quando voi vedete il video, cacchi vostri, io vado a spasso vado a festeggiare il compleanno di Cristilla che come sapete abita molto lontana da me quindi passerò qualche giorno da lei, abbiate pazienza e concedetemelo or dunque, allora, se io faccio una cosa del tipo che spingo la scala impreco dicendo Maremma Maiala, zompo come un paguro dai, perfetto, aspetto, 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 tiro la leva, corro, zompo, salgo, rizompo, ma piglio ma attacco la leva rizompando casco passo esulto succederà qualcosa di brutto bestemmio, piango sequenza logica è quella, no? stiamo andando troppo nel buio allora, qua so che devo salire e seguire il carrellino, me la sento me lo sento me lo sento dai, è stato abbastanza palese come co che è stato? è stato abbastanza palese come cosa? figlio di tua sorella ma essendo essendo che qua il terreno è inclinato tu scenderai sempre però sarai meno veloce io ho il tempo magari di correre no, chi cazzi come micchia ci ma state scherzando, vero? ok, sì state scherzando, vero? mi fulmina anche con le manine, vedo aiuto allora diamoci una possibilità, una fottutissima possibilità stai lì lì buono buono, a cuccia allora, devo ragionare stai buono a cuccia che devo ragionare figlio di buona donna allora il pulsante lo posso pigiare pure io arriva il carrello vabbè questa è cattiveria insalubre o insalubre aspetta allora 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 io devo gioco forza usare il carrello devo gioco forza usare il carrello e lo devo usare nel momento di massima lentezza possibile e non ho non ho il tempo materiale parca Eva non posso assolutamente andarci in velocità o si e se io facessi andare il carrettino tante volte contro il pulsantiello no vediamo allora l'unica è che provo facendolo andare indietro potrei guadagnare qualche istante prezioso un po' il rovescio di quello che abbiamo fatto con le catene oh si oh si oh cazzarola ok ok non so dove minchia devo andare e non mi sta piacendo la cosa non devo correre troppo perché sennò mi ritrovo brutte brutte sorprese no no ok scintille robe quella palla lì arriverà anche dopo perfetto devo saltare in avanti devo aspettare lì e saltare in avanti ansia mille ansia mille mamma mia bello 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 ci piace ci piace ci piace ci piace ci piace allora qui io mi sono reso conto che tuttora non so ancora perché cioè chi siamo dove andiamo perché lo stiamo facendo dove stiamo andando a chi dovremmo dirlo che ci stiamo andando ok 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 ha senso quello che sto facendo non vedo una sbergia di niente oh yeah è un altro trofeo portato a casa così a cacchio bene ottimo grande silver grande grande silver adesso scendi con cautela e io direi quasi quasi che ci tiriamo la cassa a cacchio buffo nel frattempo il buon king mi ha anche detto che il gioco è corto però io non ho idea di corto quanto anche perché non so ancora cosa stiamo facendo perché lo stiamo facendo chi siamo dove stiamo andando e altre cose quello è un raggio laser vero se io salto lì mi frigge le natiche però nel contempo ok e c'è un altro di lì quindi in teoria se io vado di qui scatta il primo ma scatta anche il secondo che provvederà a falcidiarmi in un amen ahhh bene domanda cazzuta del momento del silver se io faccio così tipo muoio che credo che sia la nostra seconda attività preferita allora io non posso usare uno per picchiare l'altro no aspetta un attimo oh sì oh sì usare uno per picchiare l'altro ui 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 ahhh mannaggia la pupazza ok va bene va bene va bene va bene va bene ah ok ti sei attivato fantastico perfetto stupralo stupralo ora ti darò modo di stuprarlo ancora più amichevolmente vai fantastico fantastico numero uno numero uno stavo ragionando sul fatto che il percorso del nostro amichetto qui vabbè amichetto vostro perché non è amico mio ci tengo a sottolinearlo è una sorta di evoluzione siamo partiti dalla natura siamo arrivati alla tecnologia eh allora due scatole per cui una attiva un interruttore l'altra mi ucciderà stica baffanculo ok il ragionamento di base era quello giusto credo aspetta no e se il ragionamento di base fosse l'esatto opposto aspetta allora vediamo un po' eh infatti infatti infottiti allora è un semi casino eh però come cavolo allora andiamo con calma li devo far salire tutte e due nella speranza che torni indietro solo uno o che uno rallenti l'altro ma che allora un attimo di ragionamento non mi è chiaro per niente allora io come cavolo faccio a aspetta 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 ok il magnete se ne tira solo uno alla volta no ce la faccio ce la faccio ma lo sento che li devo in qualsivoglia modo impilare e riuscirò a farlo allora ah io ho provato la tattica del ci sto attaccato ma non ha funzionato oppure aspetta aspetta se io faccio una cosa tipo mamma che casino eh però allora salgo e no mi sa che mi spiaccica il soffitto si ferma qua quindi questo oh aspetta oh aspetta quindi tecnicamente potrebbe anche darsi che allora se io faccio una cosa del tipo così così no fermati bravo ciccio stai lì molto cazzo ok uso questo aspetto che mi superi perfetto cadi spingi porca scala scende qui nulla no nulla falso allarmi e quindi scala scende porca ma è ma boia eh sì ma quindi io in teoria dovrei no far salire la seconda scatola e andarla a prendere al volo giusto riesco a grapparmi sì ok allora vediamo se ho capito cominciamo a metterla qui volete sapere come andrà a finire esiste un solo modo guardare il prossimo video del silver lo so mi odiate ma d'altronde è così comando io ciao ragazzuoli alla prossima ciao ciao